Sulla nuova strada regionale 10 ho chiesto al governo i fondi necessari per completare l'ultimo tratto, che va da Borgo Veneto a Montagnana fino a Legnago. In Senato, pochi giorni fa, ho presentato un'interrogazione parlamentare al ministro delle infrastrutture Salvini. La nuova strada è un'opera di importanza strategica, come ha dimostrato con i fatti questo governo. Con i primi, due importanti finanziamenti pari a 169 milioni. Abbiamo vinto il primo tempo della partita, ora bisogna compiere un ulteriore passo in avanti. È una battaglia che non ha colori politici, ma è del territorio.